La mia opera preferita di mare come il sole sono i ballerini di tango. Il protagonista è il movimento, il movimento è la gioia. Il corpo, il sesso e quindi la musica, lo stare insieme. Riusciva proprio a darti la sostanza del vivere. Ecco questo per me era come il sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come il sole consegna ai giovani in qualche modo la sua arte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.